Io sono nata proprio in via Casselli, una stradetta fra via L'Alessandro Volta e via Cento Stelle. Per chi crede al destino era già un segno che Margherita Huck fosse nata proprio vicino ad una via chiamata così, 91 anni fa. Probabilmente lei, atea razionalista, avrebbe sorriso ad una simile osservazione. L'amica delle stelle, così si definiva nella sua autobiografia, la più importante astrofisica italiana è stata la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico, quello di Trieste che proprio sotto la sua guida raggiunse fama internazionale. Si laurea dopo la guerra nel 1945 a Firenze in astronomia, poi la docenza universitaria e la collaborazione con i più importanti istituti di ricerca in astrofisica. Nel 64 la cattedra di astronomia Trieste, dove insegnerà per 28 anni. Una vita di primati e di riconoscimenti la sua. Margherita Huck ha fatto parte anche dell'ente spaziale europeo e della NASA. Grande scienziata, era una formidabile divulgatrice, scriveva con passione di scienza ed in particolare di una materia difficile come la sua astrofisica. Di famiglia antifascista, noto il suo impegno politico e civile, era vegetariana da sempre, non è un mio merito, lo sono dalla nascita, è stata una scelta dei miei genitori, raccontava. Era pro eutanasia, spero di morire senza ammalarmi e dipendere dagli altri, aveva detto in occasione dei suoi 90 anni. Sposata da 70 anni, nel 2008 mandò il suo saluto al Gay Pride di Bologna, dicendo da sempre l'umanità perseguita le minoranze. E quando di recente il presidente napolitano costituì la commissione di saggi, notò criticamente. Peccato non aver trovato una saggia tra tutti questi uomini. Anticonformista Umberto Veronesi, la definita l'icona del pensiero libero, partecipò, lei appassionata di bicicletta, ad un video musicale dedicato alla prima donna che partecipò al Giro d'Italia nel 24 e proprio alle donne ricordava. Tocca alle donne di pretendere di avere i riconoscimenti che meritano, credo che molto dipenda proprio da loro, di avere più fiducia e più grinta.